A Castellamare di Stabbia si grida ancora allo scandalo a causa di tanti episodi strani avvenuti nei 90 minuti disputati al Romeo Menti. Nessuno si vuole rassegnare all'amaro verdetto dell'inattesa eliminazione in una gara davvero stregata come del resto lo è stata la stagione delle Vespe a partire da gennaio. Insomma un tourbillon di polemiche che ora dovrà gioco forza terminare perché bisogna voltare pagina. La USTabbia è fuori dai playoff e ora può solo programmare la prossima stagione cercando di evitare gli errori di quest'anno ma soprattutto bisogna vedere cosa intende fare il patron Franco Maniello che non sembrerebbe intenzionato a continuare l'avventura da solo. In casa della Paganese non c'è alcuna ufficialità ma quasi certamente ci sarà l'annuncio ufficiale del divorzio con Fabrizio Ferrigno. Il giovane e bravissimo direttore sportivo napoletano protagonista del miracolo degli azzurro stellati nel giorno di ritorno con la storica conquista dei playoff potrebbe sistemarsi con il Cosenza e sta valutando anche altre proposte di società di Lega Pro. A Pagani sarà promosso Antonio Bocchetti dopo un anno di esperienza in quello che sarà la stagione della rifondazione con l'uscita di scena anche di Gianluca Grassadonia. Tempo di divorzi a Caserta dopo l'esaltante stagione con una squadra di giovani e illustri sconosciuti. Il promettente mediano Magnino è già tornato all'Udinese che nella prossima stagione lo aggregerà alla rossa di prima squadra in Serie A.